E come tutti i lunedì parliamo di calcio e naturalmente sapete che c'è stato il derby il derby d'inverno tra Vis, Pesaro e Alma Juventus Fano finito naturalmente con la vittoria del compagine fanese Allora, Sergio Catalani, il derby è sempre il derby al di là delle classifiche questa volta è andato ancora una volta bene Sì, buonasera a te Lino e buonasera a tutti i telespettatori una bella vittoria del derby, un 2-1 ma l'Alma francamente avrebbe meritato anche un punteggio più alto per la mole di gioco effettuata e per le occasioni create soltanto il gol della Vis è avvenuto nel finale al novantesimo con l'ex di turno Bartolini quindi si è subito vista la mano dei nuovi acquisti Marianeschi a centrocampo ma soprattutto Ambrosini in attacco un gol, un palo e che si è anche procurato il rigore come sempre realizzato molto bene da Sivilla che poi vedremo anche più in là anche in una esultanza veramente bella ed originale una bellissima comincia di pubblico, 2.500 spettatori tutto è filato liscio, i tifosi presonesi erano in verità un po' pochini 340 il settore non era pieno, ottima invece la presenza dei tifosi Granata con una curva imponente e una coreografia d'altri tempi vediamo ora l'unico episodio di una gara ben diretta dal direttore di gara vedete Ambrosini si procaccia il calcio di rigore entra in area, c'è lo sgambetto di Tombari un po' imbarazzante ieri al cospetto di Ambrosini e Sivilla il direttore di gara è comunque ben piazzato e decide per il calcio di rigore vedete lo sgambetto in piena di rigore di Tombari su Alex Ambrosini e il rigore che ci sta quindi c'è ben poco da dire su questa decisione arbitrale del bravo De Santis di Lecce che ha comunque ben diretto la partita e quindi la trasformazione di Andrea Sivilla per il 2-0 poi segnerà appunto Enrico Bartolini per il gol della staffa ora i risultati della 16esima giornata del campionato di serie di girone F ultima di andata e ultima anche del 2005 Alma Juventus Fano batte il Vispiesolo 2-1 Ad Agnone Matelica batte Agnonese 3-1 Ascoppito Fermana batte Amiternina 4-3 Folgore Veregra batte Castelfidardo 2-0 Giulianova batte Monticelli 3-0 Isernia e Campobasso 1-1 Iesina batte Chieti 2-0 Arecanatese e Avezzano 2-2 San Benedettese batte San Nicolò 3-1 Per una classifica che vede la Samba ancora solitaria in vetta che con 8 punti praticamente guida ormai solitaria da qualche giornata lasciando un po' le briciole agli avversari segue appunto il Materica a 33 l'Arma di Giustano che si mantiene terza forza a 31 la Folgore Veregra rivoluzione del campionato a 25 quindi San Nicolò, Avezzano e Iesina a 24 Monticelli 23 insieme al Campobasso e all'Isernia Chieti 22 Arecanatese 21 Fermana 20 Castelfidardo 19 Agnonese 17 Vispesoro e Giulianova 15 chiude la Amiternina a 13 punti Fanonino di coda ora ci sarà naturalmente lino la sosta per le festività natalizie si riprenderà il 6 gennaio mercoledì giorno dell'Epifania l'Alma sarà di Sienal Fadini campo naturalmente ostico ma quest'anno il Giulianova non naviga in ottime acque ora le pagelle pagelle di un fano rappresciato ieri mancava Ginestra e Gucci ma chi c'era veramente ha fatto un grandissimo lavoro Marco Antonini 6 e mezzo positivo il debutto del bravo under di Orciano Salvato 7 Bartolini 7 Lunardini 7 Nodari 7 Torta 7 e mezzo Sivilla 7 Favo 7 Ambrosini 7 e mezzo Borrelli 8 veramente una spanna è tornato il tutocampista il giocatore che si aveva diriziato lo scorso campionato con giocate sopra fine Marianeschi 7 e mezzo positivissimo il neo arrivato da Gubbio Marconi senza valutazione Gregorini 6 e mezzo Verruschi 6 e mezzo l'allenatore Marco Alessandrini questa volta si merita un bel 7 a margine Lino nel augurare a tutti gli sportivi un sereno Natale un felice anno nuovo auguriamo anche un felice compleanno a Claudio Gabellini che è il presidente dell'Alma che oggi compie gli anni quindi aveva chiesto un regalo dalla sua squadra regalo che i suoi ragazzi hanno puntualmente fatto quindi bel compleanno anche per il presidentissimo e si spera che nel 2016 porti magari qualcosa di ancora più bello ai colori Granata grazie a tutti grazie a tutti